Allora fate conto che ci sia anche io il 5 a Lecce perché questa cosa che si è inventata Ippolito Chiarello del barbonaggio artistico è una cosa forte perché cambia il rapporto con la gente, cambia il rapporto con il pubblico, quindi sempre un sano barbonaggio artistico è intellettuale, sempre, non ve lo scordate, ciao